bravo di giugno! bravo di giugno! nico se ho fatto dei pesci... ho sbagliato! però questo video mi fa spaccare di paura abbiamo delle buste di panini cioè abbiamo delle buste di farina perchè boffa una torta insomma... che cosa stiamo a faccia? ok, guarda che... ok fra poco faremo una meeting con la torta la mangeremo oggi chi papà è andato a Napoli torna stasera, oggi sera e oggi dobbiamo fare una torta dobbiamo fare delle cose dobbiamo fare una torta ah qui mamma, lo faccio io eh, guarda poco tiro però adesso ragazzi questa ultima volta non ci fa adesso non ci fa non ci fa non ci fa ma ci fa adesso si se è mi vi 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 oh bi e adesso è finito, modesto, mettiamolo qua, versiamolo lì mettiamo la farina non hai farina, questo è burro no, farina al bometto aspetta non hai farina non si può Grazie. 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 Un bicchiere, metti. Non metti tutto. Ragazzi, è la prima volta che fai la torta, Nicolas. E siamo molto emozionati, vero, amore? Perché stiamo a fare questa torta di cioccolato. Perché domani mattina dobbiamo fare la colazione tutti insieme. Tarde però, perché domani è sabato, domenica. Non è vero? Dobbiamo fare tardissimo. Dobbiamo svegliare tardi, perché domani non c'è scuola. Non è vero, amore? Ragazze, come ho fatto? Dobbiamo fare dei like? 3.400. 3.400. 5.600.000 grammi. Che torta è? Che stiamo a fare? Allora il cioccolato. Ok. Allora il cioccolato. Grazie a tutti. 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 Aspetta un attimo perché dobbiamo mettere un altro po' di farina. Aspetta. Grazie a tutti. Piano, poco. Nicola, non mi faria. Aspetta un attimo. Qui si fa male la pancia. Ok. E basta. E' buona. Buona. E' buona. Stai a fare un video, Paolo. Ragazzi. Ragazzi. Mischiare le noccioline. Lo metto io. Lo metti tu perché lui piace con tanta nocciolina dentro. E basta. E basta. E basta. se vuole ora. Lo faccio io. Lo faccio io. Sì. Sì. Ma saluta perché dobbiamo. Sì. 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 emanci Karena. Perfetto. Anche io mandro la mia mano. Ciao. Mommommommommommommommommon. E fin dalla volta il nostro divertimento abbiamo fatto 7 bucconi. E' stato divertente. E abbiamo un risotto 4. Molto divertente questa buscina. Mi la tengo io. che dopo fare domani devo fare una cosa molto inutile da fare, la farina. Mamma, dopo posso fare un esperimento scientifico perché ha detto la maestra facete un po' con gli esperimenti perché ha detto così la prossima volta quando facete otto anni, quando facete sette anni andate all'alimentare perché dopo fare un esperimento con la farina, con tutto, perciò mi devo esercitare. Ciao ragazzi, saluto. Ciao ragazzi, 300.000 like.